Sì, sì, posso pubblicizzare una marca di abbigliamento. Certo, dipende anche dalla marca di abbigliamento, ma per il fatto di essere un Emporio Armani Ambassador non ho un obbligo di non pubblicizzare qualcos'altro. Se vengo pagato per farlo ci mancherebbe altro. L'altro giorno vi racconto questo episodio, sono stato contattato da una sedicente agenzia pubblicitaria che voleva farmi pubblicizzare delle scarpe, che non ho neanche visto. In realtà dicevano che erano delle scarpe molto eleganti e che avrebbero pagato i post, i servizi che avrei fatto, insomma la pubblicità per queste scarpe, mi avrebbero pagato con un paio di scarpe. Chiaramente mi è venuto molto da ridere. Il problema è che purtroppo questa gente pensa che siccome tu stai su TikTok e stai su Instagram è tutta la stessa cosa, hai capito? Tu sei la stessa cosa degli altri TikToker che magari hanno anche più follower di te. Bisogna uscire da questo equivoco. Non è così. Devi considerare la storia di una persona, il mestiere che fa questa persona e ricompensarlo adeguatamente. La pubblicità è un lavoro. Metti a disposizione la tua immagine e siccome ci sono persone che si accontentano del paio di scarpe o della giacca o del vestito o della fornitura di tale prodotto, questo non vuol dire che valga per tutti perché, ripeto, bisogna valutare tutta una serie di variabili rispetto al personaggio che tu hai deciso di utilizzare per questa o quella pubblicità. Purtroppo il social ha un po' appiattito da questo punto di vista tutto bene e per avere Fabio Brescia non basta un paio di scarpe. Se mi volete come testimonial sono onorato Mamata Pavà.